Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Leggosto90, e benvenuti e ben ritrovati, come al solito sul mio canale. Direi che il titolo già spiega tutto, giveaway di Resident Evil, quindi non vorrei tergiversare troppo, anche perché sono appena tornato dal lavoro, sono devastato, signori, e quindi se io, così, se questo video dura poco, mi dura poco montarlo, mi dura poco parlo, poco impegno, massimo risultato. E vai, giveaway di Resident Evil 7, ragazzi, questo gioco merita, merita, per quelle persone che amano il genere horror e trovano Resident Evil che mi farà cagare sotto, ma anche quelle persone che come me magari non amano tanto il genere horror, perché? Perché non lo amo il genere horror, perché è come cercarsi ironia, ma perché ogni sera che ci gioco mi devo prendere degli infarti, ma potrei tranquillamente non giocarci, però c'è qualcosa che mi scatta nella mente di macrabo e di disturbato che mi fa dire devo giocarci, non lo so, mi piace un sacco questo Resident Evil, e grazie a Kinguin, mi dico Kinguin, ringrazio sempre perché li voglio bene, perché comunque ci dà sempre la possibilità e vi dà la possibilità di avere sempre qualche premio, qualche contest, ed eccoci qua, con un contest, con in paio, non una, ben su, due copie di Resident Evil 7. Avete tempo per partecipare fino a domenica a mezzanotte, quindi fino alle 23.59 di domenica. oggi è 24, 25, 26, 27, 28, ho perso il conto, 27, 28 e 29, domenica 29, dovrebbe essere domenica 29, fino alle ore 23.59 avrete tempo per partecipare, e poi verranno estratti due vincitori. Come partecipare? Bene, il link lo trovate qua sotto, il link di Gleam, dove dovrete diventare fan della pagina Facebook di Kinguin, fare un salto sul sito di Kinguin, non per forza comprare, ma fateci un salto, che tanto poi vi innamorerete di quel sito e spenderete miliardi di soldi, grandi grazie ragazzi, e poi fare tutte le operazioni richieste, quindi iscrivervi al canale di Kinguin, al mio, andare su Twitch, insomma ci sono 7-8 operazioni da fare, e voi così avrete diverse possibilità per essere estratti, soprattutto è importante compiere l'azione giornaliera ragazzi, ogni giorno dovete fare l'azione giornaliera che vi darà dei punti bonus, così poi alla fine avrete i vostri punti e alla fine potrete essere estratti, soprattutto è importante che condividiate chiunque, anche le persone che non giocano a Resident Evil, vostra sorella non gioca a Resident Evil, non importa, lei si iscrive al contest perché così voi aumentate le probabilità di vittoria, vostra madre non gioca a Resident Evil, probabilmente gioca e probabilmente, anzi sicuramente è più brava di tutti noi messi insieme, fatela iscrivere, ma forse è già iscritta, quindi vabbè, ci siamo capiti, diffondete il verbo, quindi mi raccomando condividete questo video anche su Facebook, poi mettete like, commentate, tutte azioni importantissime per la riuscita di questo contest e per l'arrivo dei futuri, a questo punto non mi resta che ringraziarvi dalla vostra gente di attenzione, salutarvi, invitarvi a andare qua sotto e poi sfruttare sempre il sito Kinguin laddove dovreste fare degli acquisti per i vostri giochi su PC, ma attenzione che tra l'altro Kinguin, trovate anche qualcosa per console, però fate attenzione, non è che sia ricchissimo, però qualcosa per console potreste trovarlo, mi piace fare così, non so oggi, però attenzione che magari non è che sia così completo, cioè non è che era tantissima roba per console, ma qualcosa c'è perfetto, a questo punto io vi posso salutare, vi ringrazio per la vostra gentile attenzione, tac, hai guardato sotto mento, tac, adesso paghi, e ci bacchiamo al prossimo video, ciao! Bello!